Pace di Cristo a tutti, sono la sorella Giovanna e ringrazio il Signore per questo giorno di luce e di vita che Lui ci dà. E ancora sono felice di leggere una riflessione sulla fede di Gabriele Valenti. Il passo della scrittura che leggerò è in 1 Pietro 1, 3, 9. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella grande misericordia ci ha fatti rinascere ad una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dei morti, per una nidità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede non viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Perché, benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Allora, in queste scritture viene trattato l'argomento fede. Per fede noi siamo salvati, per fede noi crediamo ed amiamo Dio nonostante non lo vediamo e non lo tocchiamo, per fede noi esultiamo di gioia. In un'altra parte della Bibbia vediamo che per fede Pietro, dopo aver visto Gesù camminare sull'acqua e avendo detto, Signore, se sei tu comanda che io venga a te, e dopo che Gesù ha risposto vieni, Lui scese dalla barca e camminò sull'acqua come Gesù. Per fede Pietro fece questo. Che cos'è realmente la fede? Credere ciecamente in qualcosa? Ma come? Avere fede è quando tutto ciò che attorna a noi sembra venire contro di noi, e molte volte non solo sembra, ma di fatto viene contro di noi, nel tentativo di distruggere la nostra fede. Ma nelle precedenti scritture parla della fede come una cosa preziosa più che l'oro. Quindi quando la fede può definirsi preziosa più dell'oro? Quando una fede può essere definita pura? Pietro quando si trovò in quella circostanza, a dover decidere se avere fede oppure avere paura e quindi rimanere al sicuro sulla barca, lui ha preso coscienza delle circostanze, ha preso sicuramente coscienza del fatto che naturalmente non si può camminare sull'acqua, secondo le leggi della natura è impossibile, quindi per noi è impossibile. Quindi Pietro prese coscienza di ciò e per un attimo ha avuto dei dubbi, ma Gesù lo aveva chiamato. Così Pietro, avendo preso coscienza della circostanza in cui si trovava, per fede affrontò ogni dubbio, ogni sua paura, per fede scese dalla barca e camminò sull'acqua, e contemplò la potenza di Dio, e visse pienamente in un miracolo. Gloria al nome del Signore. Ma poi venne che, essendosi fatto prendere nuovamente delle circostanze, permise alla paura di togliere il posto alla fede, ed iniziò a sprofondare, e questo è quello che molto spesso accade a tutti noi. Il Signore ci ha chiamati ad un cammino di fede, noi abbiamo risposto alla sua chiamata per fede, abbiamo camminato verso di Lui affrontando le difficoltà, ma tutto ad un tratto ci siamo fatti prendere dalla paura, ci siamo fatti dominare dal dubbio, dai pensieri, chissà se ce la farò, tutto mi sembra così difficile, sicuramente cadrò, sono troppo debole, e tutto mi va male, il lavoro mi va male, mi sento solo, eccetera. E così decidiamo di abbandonare il cammino di fede, e decidiamo di sprofondare nel male delle preoccupazioni. Ma Gesù ci ha detto vieni, e Gesù tutte le volte che noi sprofondiamo è sempre là, a prenderci per mano, e purtroppo a dirci uomini di poca fede. Saremo sempre uomini di poca fede? O vogliamo mantenere la fede, e quando le prove arrivano non permettere alla paura di togliere lo spazio alla fede, come fece Pietro. Non vogliamo prendere esempio da Pietro da un lato, ma ricordiamo che Pietro, a differenza di tutti gli altri apostoli, affrontò la paura e camminò sull'acqua. Quando di noi sarebbero pronti a fare questo? Non è per la nostra forza se possiamo rimanere in piedi dinanzi alle prove, ma è per fede in Cristo Gesù. Il Signore sia lodato. Il Signore sia lodato.